Nuovo messaggio da Nico Colani, 8 febbraio 2020. Benigni, patetico, ingiustamente superpagato per esibizioni che inducono ad apolodire i mediocri solo per la paura di far brutta figura a dire che ormai ha fatto il suo tempo. E ci canta anche la canzone dell'amore gay. Poi a parte la degradante esibizione di Achille Lauro, che ho già parlato in merito nel video precedente, arrivano Fiorello e Ferro che si baciano in diretta dal palco di Sanremo. Tutto questo fa parte di un disegno generato da tempo, sempre all'insegna della femminilizzazione maschile, che serve ad impoverire l'uomo, fargli perdere l'identità e anche la capacità riproduttiva. I messaggi dell'indottrinamento continuano. Ed il Papa ha già mandato il suo monito in merito. Il gender sarà una rovina per la società e la morale umana. L'unica cosa che possiamo fare è ritornare ad avere più attenzione all'educazione dei figli, riscoprendo i valori e le tradizioni.